Lavorare con i ragazzi della 2 e mezzo è fantastico. Serve tanto a crescere, a far divertire i ragazzi. È un'esperienza bellissima con mio figlio poi. Ma è tutto, tutto. Con l'Aprilia Sport Production si cresce. Mi sono divertito tantissimo con questa moto, è molto agile, veloce. La cosa che amo di più della mia Aprilia 250 è la frenata. Magnifico immaginare un loro percorso di crescita con Aprilia. Valentino Sport e Angelo Montola! Buongiorno! Buongiorno!